Sussidiarietà e solidarietà cristiana, diritto alla salute. È stato questo il tema al centro del decimo incontro del progetto Dialoghi Salesiani, promosso a Nuro dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Domenico Savio. Un percorso culturale, sociale e religioso che sta passando al setaccio argomenti di grande attualità e di importanza non solo per i cattolici ma per tutti i cittadini. Un approccio ai problemi visto con lo sguardo dei cristiani ma che non disdice apporti provenienti dalla società civile. Un programma di incontri che ha coinvolto tutta una serie di personalità della Chiesa, della politica e delle professioni o del volontariato. Un'iniziativa che il Consiglio Pastorale di San Domenico Savio ha voluto promuovere in occasione del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. Gli onori di casa sono stati fatti dal parroco Don Manfredo Leone all'incontro che si è tenuto lunedì nel Salone Parrocchiale e sono intervenuti, coordinati da Pietro Caggiari in rappresentanza del Consiglio Pastorale, Andrea Orru, Don Francesco Mariani, direttore della Caritas Diocesana Antonietta Lai, presidente dell'Avo di Nuoro l'Associazione Volontari Ospedalieri Mario Palermo, attualmente commissario dell'Aasle di Nuoro. Nella sua introduzione ai lavori Andrea Orru ha spiegato cosa si intenda per sussidiarietà e solidarietà. Sono due fondamentali principi di filosofia sociale entrambi si ritrovano nel diritto comunitario europeo e nell'ordinamento giuridico italiano. Inoltre, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede ha stabilito che i principi di sussidiarietà e solidarietà sono i due pilastri fondamentali della dottrina sociale cristiana e che entrambi sono legati all'obiettivo di promuovere la dignità dell'uomo e sono utili per definire l'ordine dei rapporti tra Stato e società. In particolare, ha spiegato Andrea Orru, il principio di sussidiarietà afferma che lo Stato, di fronte alla società civile, ha il dovere di offrire un aiuto, un sostegno, una promozione all'autonomia di questi ambiti e sfere sociali. L'incontro sul diritto alla salute è stato il penultimo della serie di appuntamenti iniziati lo scorso anno proprio in occasione della Pasqua di Resurrezione con una mostra artistica sul simbolo della croce. Il progetto si chiuderà il 17 aprile con un appuntamento dal titolo Dall'espiazione della pena alla redenzione.